Perché mi piace questa vita? Perché non posso farne a meno? Passare dove nessuno ha mai passato e trovare qualcosa anche di piccolo, però di tuo, di nuovo, di fantastico. Perché quando sei il primo ad entrare anche in una sala, in delle gallerie, è un'emozione molto forte. La cosa bella che mi dà la grotta è che quando sei a tante ore dall'ingresso impari a pensarla diversamente, a vedere le cose in un altro modo, ti rendi conto comunque di tante cose negative che ci sono all'esterno. Senza la luce che disti cos'è, domani umbria. Non puoi farmi nel richiamo, è così forte che spesso sei costretto a togliere del tempo ad altre cose. Non so, c'è sempre un bene. Sì, dei nemici te li fai sempre, anche se non vuoi, anche se stai attento. I cani sciolti sono un'associazione libera, un'associazione che non ha né un presidente, non ha né un tesoriere, non è neanche riconosciuta. E chi è nei cani sciolti c'è perché ha della passione, ha voglia di fare le cose, senza per questo dipendere da un gruppo, da qualcuno, semplicemente per il piacere di farlo. È la mia vita, è una scelta di vita un po', perché comunque gran parte del mio tempo è dedicato a questo. Se torna assindieto fare le stesse identifiche a questo. Sì, sì.